musica musica guarda che ti vedo dalla camera che scema comunque ti avrei sentito quindi c'è proprio non hai incertato a molto ciao a tutti ragazzi questo è il tuo Jack Spurri e benvenuti in questo nuovo video siamo tornati qua in una nuova challenge questa volta con la mia ragazza e sono un po' diciamo agitato perchè ho appena perso 84 per via Clash Royale questo giorno di merda ma torniamo al dunque oggi siamo qua rimontiamo il nostro set facilissimo da montare incredibile lo potete fare anche voi a casa perchè siamo qui con la pie double face showdown allora ragazzi eeeh siamo qua con la mia fidanzata però siccome e come riporta la confezione che adesso cercherò di farvi vedere sperando di mettere a fuoco no in basso l'angolo in basso sinistra l'ho messo a fuoco ecco avete letto eeeh eeeh assemblaggio e supervisione di un adulto richiesta eh così come ci serve un adulto adulto mio padre dalla regia mio padre l'altra volta era mio fratello e adesso sono mio padre una regia sempre low budget non pago nessuno ovviamente nemmeno la mia ragazza tutti i soldi a me mi raccomando ragazzi però no intanto non vuoi salutare che non hai salutato mi raccomando ragazzi però se volete altri video ciao a tutti ragazzi tu dall'esterno puoi evitare di star lupire a smocciolare che si sente brutto cazzo già il video parte abbastanza agitato a posto guarda vengo lì e ti strozzo eeeh oggi mi girano i coglioni guarda un po' se volete nuovi video ragazzi con la mia ragazza scusate il gioco di parole lasciate 20.000 mi piace che importantissimo detto questo oggi di cosa parleremo regia ce lo vuole dire a lei ci cucina ci cucina oggi ci cucina l'argomento l'ha scelto Federica perchè ci piace mangiare bravo mi piace allora andiamo a preparare la nostra pie face però siccome Federica diciamo come dire come tutte le donne rompe il cazzo non faremo la torta in faccia qualora ci sia la domanda sbagliata ma andremo a sommare semplicemente i punti che comunque la panna in faccia arriva lo stesso dico non è che ma guarda che però se la metto a temperatura ambiente alla panna vedi che diventa più cremosa ma cazzo ne sai tu prego regia mi raccomando veloce con le domande e veloce con lo showdown prima domanda vai aspetta non mi ricordo come se fosse fare così scusate ragazzi la regia ha un po' diciamo ha un po' di lag ma io ho paura è morta la regia ragazzi di che nazionalità è il polo allevando eeeh 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 italiano, cinese, indiano o giacquale? indiano Cinese ignorante Incorretto Cinese ignorante Cazzo andiamo a mangiare ogni giorno i sushi Sei proprio ignorante Come le minchia di potenziale al braccio Trappafarte Io non volevo volare la ferra a solita in faccia Mi video tutto io questo passo Che cazzo ci posso fare Alla fine vado ormai per ora Era facile Indiano Abbiamo speso 400 euro di sushi Nella nostra vita Perché dico sushi C'è anche il pollo alle mandorle Quando andiamo a mangiare E mi dice indiano Ma proprio il cervello non l'hai connesso Una solo per me Federica Non mi interessa Dobbiamo fare cinque cose Mi indigno All'edragia C'era un po' di panna nel mio polsante Cosa andava tutta Madonna non sai fare niente Regia da mio questo cazzo di telefono Ti ho detto che c'è pubblicità C'è la X in alto Sono usati i 67 anni per fare i video Perché sono un po' Guardate questa è una nuova opera di origine greca Perché quando lo faccio io Il pantheon Il pantheon Non è una nuova opera di cucina Dono di cucina Dono di cucina Dono di cucina Che cazzo fai L'ultima comunque L'ultima Ma era di cucina Ragazzi ma che video faccio Ragazzi ma che cazzo di video faccio Tu sei Hai il cervello totalmente Bruciato dalla droga Che cazzo fai Sei uscito dal quiz No Quando sbagli poi Devi riandare qua Qua No qua Qua Uno pari ma comunque perché Diciamo c'è stato un Che fai come mio padre tu Non l'avevo messo Cioè l'avevo assaggiato però Devo fosse buona Uno pari chi vuoi Ma tu hai sbagliato Grazie Vecchia volpe Sì Ma che cazzo di La prima lei La prima lei sbagliata ha detto India Minchia Minchia Da che sono stronzi Tutti e due Io faccio un omicidio Oggi Anzi Pronti Prego Terza domanda Spostati Prima va bene Che è un giorno Andatemi da questa famiglia È una famiglia Non dei problemi Ma che cazzo Saluti Cosa sono i Purci 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 Un'altra di Prudenta Dolci Pasquale A base Di marvellata Pipi Di focaccio Dolci Tipi Di Margalizi A base Di miele la due, la quattro, la quattro uno, due, tre e quattro, ultimo corretto ma sta cosa gratis non lo sto a vedere che mi ha rotto il cazzo non ti sono forti, ho graduto perché di parte prima è in vantaggio quindi ora manco che ti faccio prima la domanda e ti sparo io e ora? alla prossima non la facciamo? con la me- si capitaniamo perché non voglio essere preso in giro io no, c'è viene a casa mia e mi sporchi pure questo non entra più a casa allora regia stiamo tre a uno per Federica stiamo due a uno per Federica ti pare che sono 67 anni come a te cazzo di che regione è il torta niente si Basilicata, Calabria, Molise o Campania? no, no ma che è Calabria? Campania tu mi hai detto Calabria? Campania tagliato finisci così direi che non serve la torta che faccio con questa ti pulisci non te ne do un'altra comunque la regia posso dire che sei un arbitro cornuto grazie senza diciamo come dico come si dice disinteressato penso che adesso uno su YouTube è così bello, è vero Federica? ma poi facciamo? esatto allora la prossima cosa ma già ho perso porca troia vabbè dobbiamo fare l'ultima soprio 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 vabbè che cosa hai detto? madonna aiuto venitemi a salvare questa famiglia con un euro solo che è il mio sento 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 io so che sto guardando ma che fai? sento sento pronti? via bello zotto sul pulsante ma che minca tocchi tra ore ma c'è mia ragazza della bemana carbonio carbone ma che minca solitano con la cucina carbone ho detto una cucina che coro è? ma ragazzi ho vinto ovviamente un saluto a tutti un bacio a tutti allora sono amareggiato silenzio sono molto amareggiato uno perché già questo video sono partito diciamo con un molto molto amareggiato ecco se possiamo dirlo secondariamente qui c'è stata una coalizione socio-culturale cornuta contro di me contro di me terza cosa io non lo so che minca fai dai pugni ai vecchi ammazzi le talve perché qua o eri campione nazionale di ammazzare la talve oppure come minca fai a premere così veloce io non me lo spiego sono bravissime detto questo ho lasciato un bel mi piace non farò mai più video su youtube no ma io mi ritiro per sempre tu ti devi andare domani porto il mio padre in un ospizio perché penso che abbia i riflessi più lenti di un bradico morto grazie mille a tutti quanti agli infami così la rima la lasciamo ciao a tutti ciao in chi abbiamo pure gli effetti ma che ci deve fare con il genio oh quanto sono forte Illuminati Crew che ci deve fare con il genio